io non ce sto a capir più niente qua ci abbiamo a che fa' con una banda de matti ragazzi permettetemi di dirlo posso permettermi di dire a sto punto è un colpo di calciomercato inaspettato che non mi aspettavo mi ero già fatto un film completamente diverso sono qui per parlarne adesso vi spiego tutto quanto bentornati e ben ritrovati Manu Coné Manu Coné chiamatelo come cazzo vi pare quello là il centrocampista del Gladbach è un nuovo calciatore della S Roma se volete in merito il parere del buon Fabio anche su questa ennesima operazione di calciomercato dovete fare una cosa semplicissima lasciate like su questo contenuto e ve assicurate anche il suo parere stupitemi in termini di like se ancora non mi seguite fatelo iscrivetevi e attivate le notifiche cliccando sulla campanella una volta che cliccate sulla campanella attivate tutte le notifiche per restare sempre aggiornati e non vi perderete più nulla due canali di calcio e un extra calcio in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video vi posso di questa operazione di calciomercato che mi piace tantissimo ma sapete perché non me la sto godendo per tutto quello che è successo nelle ultime ore poi tirerò il bilancio definitivo a calciomercato chiuso ragazzi tra riff e raff ma un'altra cosa un'altra cosa scusatemi mi permetto di dirla io una sessione di calciomercato così assurda così ambigua con sensazioni e sentimenti così contrastanti in tanti anni che seguo la Roma ragazzi non l'ho mai vissuta una situazione di alti e bassi clamorosi e perché vi dico che non credevo nella chiusura di questa operazione di calciomercato perché il film che mi ero fatto era il seguente scambio secco Abram Selmeker i 10 milioni di euro di Abram per il conguaglio economico alla Roma non entreranno il Milan affonderà se lo porteranno a casa loro poi invece la Roma mi stupisce ancora ulteriormente un'altra volta diceva dovresti essere contento ma io mi incazzo ancora di più da sto punto di vista perché dico se non era per quei 10 milioni di euro di Abram non erano il motivo per il quale potevamo o no chiudere questa operazione di calciomercato ma allora perché cazzo me la chiudi adesso ma allora perché cazzo aspetti l'ultimo giorno le ultime ore di calciomercato ma perché c'è devi mettere in mezzo la concorrenza ma perché devi far aspettare De Rossi tutto sto tempo prima di avere un nuovo centrocampista che ribadisco per me adesso entriamo nei meriti è un centrocampista importante o sapete per quale motivo perché non lo sanno manco loro quello che cazzo devono fare se svegliano una mattina col culo scoperto il centrocampista non serve se svegliano il giorno dopo improvvisamente il centrocampista serve ma perché stamattina si sono svegliati improvvisamente capito il giorno sì il giorno no oggi era il giorno sì e il centrocampista serve perché se poi andiamo a guardare il pacchetto ragazzi e noi centrocampisti ci stai numericamente parlando è quella la cosa che più me fa un cazzà ragazzi perché ci stanno modi e modi ribadisco ancora una volta completamente sbagliate le tempistiche di tante e tante operazioni di calciomercato che abbiamo fatto ma soprattutto ragazzi per settimane se non per mesi non si è mai parlato di un rinforzo a centrocampo siamo partiti con gli attaccanti e Dovbic così e sull'Eccola e gli esterni ragazzi all'ultimi giorni di calciomercato tra una bestemmia per il difensore che zompa un altro che arriva e il centrocampista ecco l'ultimo calciatore che mi aspettava arrivasse era proprio lui anche per quello che vi ho detto poco fa sui fantomatici 10 milioni di euro datevi una svegliata e per le prossime sessioni di calciomercato abbiate le idee un po' più chiare perché ai nostri occhi ma è secondo me un dato oggettivo ragazzi trapela risalta perlomeno a percezione ma ribadisco per me una percezione oggettiva una mancanza grave di programmazione di quello che devi fare della vita di quello che devi fare da grosso di quello che devi consegnare a De Rossi non era manco una questione economica alla fine ma chiudilo due mesi fa sto cazzo di calciatore ma anticipa la concorrenza portatelo a casa tanto alla fine bene o male gli hai dato quello che ti hanno chiesto se parla dell'operazione da 17 milioni di euro più 3 de bonus hai offerto 15 stamattina te l'hanno rifiutata te l'hanno detto solo voi sono gli ultimi giorni sono gli ultimi ore c'è sta pure il milano che cazzo volemo fa ecco così mo chi appessarta per le visite mediche ragazzi io non mi meraviglio più di niente non mi meraviglio più di niente entriamo nei meriti delle caratteristiche questo è il centrocampista che te mancava dai tempi di Matic da quando hai perso ragazzi un calciatore importantissimo dal punto di vista della solidità dal punto di vista dell'interdizione di come ti recuperava i palloni Matic e dall'epoca ragazzi fino ad oggi non è mai stato sostituito a dovere questa ribadisca era un'operazione che dovevi fare un sacco di tempo fa ma non solo riferendomi a questa sessione di calcio mercato a un profilo del genere ci dovevi pensare già da prima questo è un calciatore importantissimo nonostante alla fine so 20 milioni di euro ma gioca in Bundesliga ragazzi quindi una botta del qua una botta del là il discorso è sempre quello un calciatore del genere che gioca in Premier League vale il doppio quindi lo prelevi dalla Bundesliga strano perché Ghisolfi dice eh no però è francese quindi è per quello che non guarda solo il campionato francese guarda i calciatori francesi vabbè chiudiamo st'altro piccolo sfogo st'altra piccola parentesi caratteristiche tecniche del calciatore fisicità importante giovane di prospettiva quindi comunque rientra no in quella linea verde della Roma che cerca di investire ragazzi su su profili giovani che ti possano dare quel qualcosa in più che possano avere margini di miglioramento il calciatore ha una tuttilità non indifferente fa la mezzala fa il mediano ragazzi all'occorrenza qualche volta ha fatto anche il trequartista quindi a livello di utilità io non c'ho niente da dire noi dei trequartisti in cena abbiamo bisogno però te fa capire che tecnicamente ragazzi è uno valido perché se no sulla batteria della trequarti non ce lo metti ce lo metti perché c'ha qualche caratteristica tecnica che ti dà quel plus in più c'ha anche quel qualcosa dal punto di vista qualitativo questo è stato preso ovviamente per fare la fase di interdizione per mettere gambe fisicità muscoli in mezzo al campo per mettere la dica davanti alla difesa per bloccare la difesa perché se c'è una cosa che abbiamo capito ragazzi è che uno dei nostri problemi principali è proprio la fase difensiva passano troppi palloni serve uno che li recupera e che ribalta rapidamente l'azione e lui ragazzi ha tutte queste caratteristiche secondo me De Meio si può sempre prendere ma abbiamo preso uno dei migliori prospetti da questo punto di vista muscoli ragazzi io lo paragono a Matic per me ma mi viene in mente anche lo stesso Marcus Turam in dimensione Juventus secondo me è un profilo abbastanza simile ragazzi non ci si discosta tantissimo seppur Turam secondo me ha quel qualcosa in più però giustamente se sta a scatenare il putiferio perché abbiamo comprato un centrocampista del genere e nessuno se l'aspettava vado subito in merito al voto il rapporto qualità-prezzo poi entriamo nei meriti anche dei numeri del calciatore lo paghi quello che vale quindi non è che hai fatto l'operazione il calciatore era in scadenza non mi pare fosse scadenza di contratto non mi vorrei di una cazzata non mi aveva manco da andare a verificare ma non credo 30 giugno 2026 l'hai pagato quello che vale l'affare lo fai perché paghi quello che vale e ti porti a casa rinforzo che ti serviva ragazzi quello sicuramente sì alzo de mezzo punto per questo motivo perché per come se stavano a mettere le cose io st'operazione non me la sarei mai aspettata e invece alla fine sto calciatore è arrivato quindi do 7 il rapporto qualità-prezzo se lo voglio lo paghi quello che vale anzi no 7 e mezzo scusatemi ci ripenso perché per me può fare veramente tutta la differenza del mondo lui come terminale di interdizione è a fianco un calciatore che sia che sia paretes io ipotizzo due centrocampisti sto ipotizzando il 4-2-3-1 poi se sarà 4-3-3 questo comunque lo metti là davanti alla difesa può fare anche la mezzala perché la mezzala la fa ogni tanto pure dal punto di vista dell'inserimento non è malaccio do 7 e mezzo perché perché ci serviva e dovevamo investire in quel reparto serviva ragazzi serviva prima dovrei riabbassare mezzo punto da 7 e mezzo e riportarlo a 7 ma tagliamo adesso il toro 7 e mezzo perché alla fine tu porti a casa e ci serve ok per quello che può dare innanzitutto voglio leggere i numeri non è uno che segna e fa segnare in una maniera di quelle clamorose no la sua esperienza di 79 presenze in bundesliga porta 4 call e 4 assist in totale 165 partite da professionista 13 gol e 5 assist cioè praticamente tra Riff e Raff ragazzi questo ogni 10 partite te fa un gol o un assist bene o male è quella la dimensione senza giracce troppo intorno non sono numeri interessanti da quel punto di vista realizzativo ma non lo prendi per quelle caratteristiche cioè tu lo prendi perché ribadisco te serve te fa l'interdizione e per quello che può dare un profilo del genere alla Roma ragazzi secondo me è un giovane da la giusta personalità se De Rossi è bravo a lavorare sul calciatore se gli dà il giusto spazio non mi viene il termine come se dice la giusta fiducia non mi veniva il termine secondo me questo te la può alzare la sticella e può fare un grandissimo campionato in serie A io mi meraviglio di come la Roma ragazzi ribadisco sia arrivata oggi al 30 di agosto in fretta e furia a chiudere l'operazione del calciomercato e non era manco una questione economica che te mancavano i soldi perché nel momento in cui entra lui ragazzi nel momento in cui sto registrando ancora non è uscito nessuno dal punto di vista economico quindi ribadisco poi magari ci sono delle situazioni delle dinamiche che che me sfuggono però è oggettivo che le tempistiche siano veramente completamente sbagliate per me è da 8 sto colpo ragazzi per me è da 8 già me lo immagino là in mezzo al campo a recuperare palloni a non far passapalle a far ripartire l'azione a trasformare l'azione da difensiva in offensiva fisico importante ora arriva o sa un paio visite mediche o arriva ed è peggio di Enzonzi preparatevi perché ogni volta che sono stato contento per un francese centrocampista o sapete tutti come è andato a finire però io gli voglio da fiducia ragazzi per me veramente può far bene sto calciatore e voglio sapere non mi ha manco da aggiungere altro perché sto talmente ancora incazzato devo ancora metabolizzare quelle che sono state le situazioni precedenti che non c'ho manco voglia di aggiungere di parlare in altre situazioni ragazzi sarei stato euforico felice contento avrei fatto un macello probabilmente perché quando le operazioni mi piacciono sapete come mi comporto ma ragazzi sto giudicando la situazione nel complesso basta grazie a tutti